Telemedicina e telemoltioraggio nella broncoplemopatia cronocostruttiva sono al centro del progetto secondo classificato del bando AIPOITS assegnato oggi qui a Milano presso la sede di AstraZeneca che ha dato un supporto non condizionante a questa bellissima iniziativa. Noi ne parliamo col protagonista con Francesco Saltona. Senti Francesco visto che sei così giovane ci diamo del tu, senti quali sono le premesse del progetto che hai presentato che appunto è arrivato al secondo che ha avuto questo bellissimo riconoscimento? La premessa principale è che la riacutizzazione di BPCO sia un evento che l'opneumologo deve temere e deve imparare a temere sempre di più, un evento che deve avere per l'opneumologo la stessa valenza che l'infarto del mio cardio ha per il cardiologo, cioè un evento acuto che mette a rischio di vita nell'immediato. Non solo questo perché si sa che dopo una riacutizzazione per BPCO è più probabile averne altre e il tasso di riospedalizzazione a 30 e a 90 giorni dopo la prima riacutizzazione è significativo. Il razionale del nostro progetto è applicare la telemedicina in una maniera innovativa nel senso che la telemedicina finora è stata applicata utilizzando singoli dispositivi che misurano singoli parametri vitali. Senti Francesco invece voi cosa vi siete tra virgolette inventati? Cosa avete messo a punto? Il sistema che abbiamo messo a punto in collaborazione con la ditta VST che è una spin-off dell'Università di Modena e Reggio Emilia è un sistema innovativo e unico nel suo genere perché in soli 90 secondi di misurazione è in grado di rilevare tutti e 5 i parametri vitali fondamentali raccomandati dall'Organizzazione Mondiale della Sanità quindi frequenza cardiaca, respiratoria, pressione, temperatura ed è un dispositivo che si basa sull'intelligenza artificiale. Rileva due soli parametri fisici che sono la traccia pulso-simetrica e la traccia elettrocardiografica e li integra grazie a un algoritmo appunto che gira in cloud di intelligenza artificiale per dare in output i 5 parametri vitali. Senti, due domande in una, ovvero il dispositivo è già funzionante, cioè è già stato testato oppure si tratta di un prototipo che dovrete mettere a punto e poi il vostro progetto in cosa consiste esattamente, cioè se farete uno studio clinico, cioè che tipo di valutazioni farete con questo device che ci hai spiegato? Il dispositivo è attualmente disponibile per il commercio, è un dispositivo medico di classe 2A ed è stato validato per l'utilizzo clinico, è un dispositivo che noi abbiamo utilizzato in un'esperienza clinica precedente per valutare la precisione della misurazione perché si potrebbe pensare che ci sia un discostamento della rilevazione fatta dal cervellone di intelligenza artificiale rispetto alla misurazione con il gold standard che invece non c'è stato in una nostra esperienza scientifica precedente. Lo studio che abbiamo pensato è uno studio quasi experimental, quindi che prevede un braccio interventistico prospettico e dei controlli storici appaiati. È uno studio che prevede di dare in dotazione al paziente dimesso dopo ospedalizzazione per bpcioria acutizzata dare in dotazione il dispositivo che utilizza per effettuare una misurazione al giorno per 90 giorni complessivi. Gli outcome principali, insomma se vogliamo identificarne uno, è il tasso, la riduzione del tasso di riospedalizzazione a 30 e 90 giorni e quindi ipotizziamo che il dispositivo permetta di mettere in piedi un sistema di assistenza domiciliare da remoto o se necessario in presenza per casi selezionati in grado di prevenire l'evento acuto successivo.